fermi qua, tenetelo in sicurezza ti avviso, ti avviso, ti do la pillola e ti faccio dormire fino a domani professore stai calmo, qui ti stiamo portando e sarai sicuro arresto, fermo, fermo, tenetelo, tenetelo lì cazzo salve, buonasera signori, che succede? eh? che succede? eh niente, io sono il dottor Foscarini, vengo dallo spazio picchiato ascolta, forza ti prendi di subito questo bastardo anche voi siete buoni, vero? è terribile e non ti fidare, tenetelo là, tenetelo là, non me l'avvicinate una lezione di cucina, una sola una sola lezione di cucina salmo, tenetelo là, tenetelo là tenetelo là, tenetelo là sentitelo cazzo, questo cazzo, questo cazzo tenetelo niente tenetelo a farlo là, ho capito che erano ho capito che erano, però io non posso andare dentro lo vediamo, lo vediamo lo vediamo noi, lo vediamo questo è mandato questo è mandato io non lo sopporto più, porca troia un attimo, state lì, mantenetelo mantenetelo tenetelo, sentitelo da qua cazzo, più dietro se mi va a mozzicare la macchina sto dicendo, sto buono ragazzi, anche voi siete buoni anche voi, porca troia fermo dai, dai, per favore dai, per favore dai, per favore dai, che vi do pure la chiave dai, questa è la chiave si il tirato prego, andate ascolta grazie a tutti grazie a tutti